Anche nella seduta del Consiglio Comunale di Oristano non ha dato il meglio di se stesso e pur restando marcate le differenziazioni politiche che non possono essere abbattute dal Regolamento Consiliare, recitato come un breviario da uno dei componenti dell'Assemblea, appare evidente che da ambo le parti che siedono nell'Aula degli Evangelisti occorra maggior senno politico e in tempi brevi acquisire metodi e comportamenti che devono portare ad avere una possibile visione unitaria dei problemi da discutere e risolvere e del lavoro da svolgere. Forse prima di arrivare in Aula e nei tempi stringenti del rammentato regolamento, che pur danno luogo ad un infinito quanto prolisso caracollare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, sarebbe opportuno che prima di sbarcare in Aula gli argomenti dovrebbero essere vagliati e discussi a livello di capigruppo ed in particolare messi a punto nelle innumerevoli commissioni consigliari che sono state istituite veri e propri parlamentini nei quali si potrebbe lavorare portando in Aula proposte motivate e ove possibile unitarie nell'interesse del buon governo della città. Lo stato di degrado in cui verso i cimiteri d'Uristano, Donigala, Silin, Uracini e Due Massama questo è l'oggetto dell'interpellanza presentata al sindaco e alla giunta dai consiglieri Efiso Sanna, Carla della Volpe, Francesca Marchi, Umberto Marcoli, Francesco Federico, Massimiano Daga, Maria Ubino e Giuseppe Ubino. Le erbacce invadono i viali, la terra mossa per dare corso agli interramenti non viene debidamente spianata causando fossi e avvallamenti. Diverse fontanelle hanno funzionalità ridotta e altre ancora presentano un'estetica improponibile. Alcuni manufatti sono sfondati, numerose transenne sono state posizionate con carattere d'urgenza e ancora giacciono al loro posto, ormai da lunghissimo tempo. Sono ancora oggi presenti alcune scale vetuste e pericolose. Parte dei locali dei servizi igienici sono fatiscenti e altri locali sono utilizzati in maniera impropria. Gran parte delle zone destinate alle inumazioni versano in condizioni precarie. La parte più antica del cimitero San Pietro di Uristano possiede caratteristiche manufatti di grande interesse sotto il profilo storico, artistico e architettonico che andrebbero rivalutate e meriterebbero una maggiore attenzione. I consiglieri interpellano dunque il sindaco per sapere chi detiene la responsabilità del decoro, della polizia, della manutenzione e cura del verde dei cimiteri, quali prestazioni deve garantire l'Uristano Servizi, con quanto a personale quali sono i costi per l'ente amministrativo. Erbacce, cespuglie, piante non curate. Così le strade cittadine diventano un rischio. Oggetto dell'interpellanza presentata dai consiglieri comunali Francesco Federico, Francesca Marchi, Fiso Sanna, Maria Obinu, Giuseppe Obinu, Massimiliano Daga, Carla della Volpe, Umberto Marcoli, l'approssimarsi della stagione primaverile provocherà un aumento esponenziale delle erbe infestanti che già oggi in molte zone rappresentano delle vere e proprie barriere architettoniche. Tali situazioni di incuria, abbandono e di forte degrado minano inoltre le giuste ambizioni di Uristano, quale città turistica e città guida del territorio, contribuendo a farla parire agli occhi dei visitatori, indecorosa e abbandonata. I consiglieri interpellano dunque il sindaco per sapere se l'esecutivo sia consapevole della grave situazione di degrado in cui versano numerose strade della città e delle frazioni. Per quale ragione si è giunti a questa situazione di forte criticità? Come si intende procedere per organizzare un sistema continuo e proficuo, teso a tenere sotto controllo la crescita incontrollata delle erbe infestanti? In previsione delle prossime elezioni regionali, che probabilmente si svolgeranno la primavera prossima, sono avviate le manovre prima di tutto per la scelta del candidato presidente destinato a guidare l'accordata del centrodestra attuale coalizione al governo. La riconferma di Cristian Solinas verrà senz'altro riproposta dalla Lega e dal partito sardo d'azione al quale il presidente uscente appartiene, ma al momento nulla è dato per scontato. Vedremo il proseguo. Per ora c'è da rilevare che Fratelli d'Italia manifesta in Sardegna la volontà di andare avanti svolgendo nell'isola un ruolo di primo piano consono al risultato del voto conseguito nelle elezioni politiche. Alla Camera il partito della Meloni ha preso 278 mila voti, pari al 26%, mentre la Lega, che inglobava anche i sardisti, ha preso 43 mila voti e il 6%. Nelle regionali del 2019 i due partiti insieme erano saliti a quota 151 mila voti al 21,26%, 81 mila per la Lega, 70 mila per i sardisti. Poi il crollo alle politiche con Lega e Pisdaz che perdono 108 mila voti e 15 punti in percentuale. È stata una risposta straordinaria da parte dei medici che dimostra l'efficacia della sperimentazione e che dovrebbe permettere di coprire non solo le esigenze dei 10 ambulatori straordinari finora individuati. Si è chiuso mercoledì 15 marzo il bando per l'acquisizione delle disponibilità da parte di medici per la copertura anche parziale degli ambulatori straordinari di comunità territoriali, un progetto pilota varato dalla ASL per assicurare l'assistenza sanitaria di base ai cittadini della provincia, privi di medico di famiglia. Le disponibilità arrivate in soli 7 giorni sono state 90. Al bando sono stati ammessi a partecipare i medici di base e quelli di continuità assistenziale in servizio presso la ASL, con priorità in graduatoria e in subordine i medici dipendenti del servizio sanitario e successivamente tutti quelli iscritti all'albo professionale. Già dalla prossima settimana procederemo a convocare gli aventi diritto secondo la graduatoria che sarà pubblicato sull'albo operatorio ASL per concordare la disponibilità oraria e di sede, ha chiarito il direttore sanitario Antonio Maria Pinna. Il Consiglio Comunale di San Veromivis ha approvato il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile. È il progetto di tutte le attività coordinate e dell'insieme delle procedure che dovranno essere adottate per fronteggiare un evento calamitoso atteso in un determinato territorio, fanno sapere dal Comune, in modo da garantire l'effettivo e immediato impiego delle risorse necessarie al superamento dell'emergenza e il ritorno alle normali condizioni di vita. È il supporto operativo al quale il Sindaco si riferisce per gestire l'emergenza con il massimo livello di efficacia attraverso una precisa distribuzione di sforzi volti a conoscere le vulnerabilità territoriali e antropiche, ad organizzare una catena operativa finalizzata al superamento dell'evento. Il primo cittadino sanverese disporrà quindi di un valido riferimento che determinerà un percorso organizzato in grado di sopperire le necessità conseguenti ad ogni evento calamitoso. Il Comune di Macomera ha solennemente conferito in una seduta speciale del Consiglio appositamente cavocata una targa in riconoscimento del grande lavoro di ricerca sulla storia della città a Giovanni Cucca, originario di Macomera. Giovanni Cucca, classe 1928, figlio dell'ex sindaco di Macomera Antonio, primo cittadino fino al 1964, con una invidiabile freschezza ha portato a termine una colossale opera di ricerca storica sul territorio, studiando il materiale proveniente da tutti gli archivi possibili. Il risultato, a disposizione di chiunque voglia studiare la storia della città, è racchiuso in otto poderosi volumi. Il lavoro di Giovanni Cucca è stato illustrato al numeroso pubblico, a corso, tra conoscenti e molti parenti, dall'archeologa Caterina Bittichesu, che vanta a sua volta un cospicuo numero di pubblicazioni storico-archeologiche. Parole di apprezzamento sono state espresse dal sindaco Antonio Succo e dall'assessore alla cultura Gianfranco Congiu, che ha proposto il titolo onorifico di professore. Lo studio di Giovanni Cucca, che inizia dalle origini della città, prosegue col 700 per continuare fino ai giorni nostri, suddividendo gli avvenimenti con la vicendarsi dei Savoia e dei Vicerè. Un lavoro di rigorosa ricerca. La targa è stata consegnata nelle mani del figlio, architetto Antonello. Giovanni Cucca, impedito da motivi di salute, ha seguito la cerimonia in collegamento telematico. Per consentire l'esecuzione dei lavori per il ripristolo della funzionalità idraulica nella zona del Foro Boario, dal 20 al 23 marzo, sarà modificata la disciplina del traffico nella via Umbria e nella via Vandalino Casu. Approvato e pubblicato dalla Direzione Generale della Sanità l'elenco dei candidati ammessi alla frequenza del corso di formazione specifica in medicina generale, presso le due sedi didattiche di Cagliari e Sassari, relativa al triennio 2022-2025, per i medici della Polizia di Stato, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armatte e del Corpo della Guardia di Finanza. Con questo finanziamento la Regione vuole sostenere le attività di censimento e la predisposizione dei piedi di prelievo nelle autogestite per l'esercizio della caccia, lo ha detto l'assessore Regione della Difesa dell'Ambiente Marco Porcu, dopo l'approvazione della delibera che prevede uno stanziamento di 600.000 euro per il triennio 2022-2024 da destinare alle province e alla città metropolitana di Cagliari. Quarta tabba dell'iniziativa gastronomica ai piatti del mercato, promossa da Campagna Amica Oristano, con la collaborazione dell'Istituto Alberghiero Oristanese, protagonisti della giornata agli agrumi. Presso il mercato Campagna Amica di Via Matteotti a Ghilarza, lunedì 20 marzo, a partire dalle ore 10, ospiti i ragazzi della scuola dell'infanzia e le prime classi della scuola primaria, l'Istituto Alberghiero Don Diodatto Meloni di Oristano proporrà un dolce a base di agrumi. L'associazione Agri Mercato, con l'ausilio dell'amministrazione civica di Ghilarza, offrirà ai ragazzi e consumatori abituali del mercato delle spremute di arance. Grazie a tutti.